Allora Zaira, raccontaci un po' che cosa è, e tu non schippare perché è importante. Sapete che negli ultimi anni sono state scoperte nuove isole, vero? Sono vere e proprie isole di rifiuti che si formano a largo dei mari e oceani. Non c'è niente di sconvolgente se pensiamo a tutta la plastica che finisce nei mari. Quanta? 150 milioni di tonnellate. E stica? Come stica? Che dici? Cioè, nel senso, volevo dire, una cifra enorme. Ah, perché tu sei milanese, no? Perché stica a Roma significa che non te ne può frega di meno. No, no, mi frega, mi frega e come? Come? È il momento di far qualcosa per limitare i danni. Eh, tipo? Smettere di usare monouso di plastica. E cosa possiamo usare? Piatti, bicchieri, posate, contenitori per il cibo, 100% biodegradabili e compostabili, come quelli che noi di Eque distribuiamo. Ah, e quanto ci mettono a biodegradarsi? Poche settimane. E invece la plastica normale? Una bottiglia come questa, centinaia di anni. Ci spieghi perché hai scelto Banca Etica e che cosa fate insieme? Perché siamo sicuri che Banca Etica non finanzi imprese che inquinano i mari. Recentemente, insieme, abbiamo reso l'arcipelago delle Tremiti free plastic. Giuro che non userò più una forchetta di plastica in vita mia. Marco, mangiare le cotolette con le mani e usare le stoviglie biodegradabili è un primo passo. Lo apriamo o no questo conto in Banca Etica? Sì. Oh, divento Tremitese. Banca Etica. L'interesse più alto è quello di tutti.